con mister guidi al termine del match contro il figlino e prima uscita stagionale ovviamente risultato che non conta però un mister soddisfatto sì innanzitutto buonasera a tutti sì sono sono molto soddisfatto gli ho chiesto determinate cose alla squadra che che mi hanno fatto c'è stato un primo tempo di livello per cui sono sono molto soddisfatto un primo mattoncino per quello che dobbiamo fare ecco primo tempo di livello poi ovviamente condizione atletica e di vario tecnico è venuto fuori anche con il passare dei minuti figline molto più avanti di condizione inevitabilmente rispetto all'asta non ricordiamo cioè ci scordiamo serie di ovviamente c'è diversa noi questo si viene da da sei allenamenti per cui poi dopo chiaramente ancora le gambe non sono in maniera ottimale insomma però va bene così io sono molto soddisfatto della prima uscita ecco prossime uscite come dicevamo a microfoni spenti puntato subito con categorie ancora superiore per non essere appunto fissati anche con quelle può essere il risultato noi facciamo i 12 siamo appoggivosi e poi dopo qualche giorno si va a San Donato senta mister parliamo anche di quelli che sono i gironi non sono ancora ufficiali ma insomma sono abbastanza ufficiosi che girone vi aspetta che girone si aspetta lei perché insomma l'asta è una neopromossa però ci sono anche tante squadre che si sono rinforzate è un campionato difficile per cui i ragazzi lo sanno la società lo sa ci sarà da soffrire però ritengo che abbiamo delle buone qualità per poter fare un buon campionato e arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati allora grazie mister un in bocca al lupo grazie a voi 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 grazie a voi